Ciao, sono Tito Di Carlo Antonio, collaboro con la Cutcare Editor e stiamo realizzando un progetto fantastico. Stiamo scrivendo un libro che racconterà le storie di successo di tutte le persone comuni, le persone normali come Mete, che però nella vita hanno avuto dei momenti forti, dei momenti importanti, che vorrebbero raccontare. Di solito sono stati scritti tanti libri che parlavano di personaggi famosi, di VIP, che hanno raccontato la loro storia e hanno avuto anche successo, ma questa volta vogliamo raccontare la storia di persone comuni, persone ordinarie che hanno avuto nella vita momenti straordinari, che vogliono raccontare e possono emozionare, entusiasmare e possono ispirare il nostro lettore. Se anche tu vuoi raccontare la tua storia, fatti intervistare da me o da qualcuno del mio staff e faremo in modo di raccogliere le informazioni giuste, perché la tua storia possa essere raccontata a tutto il mondo, perché tu possa essere protagonista di una serie di storie di successo che possono aiutare le persone. Se anche tu vuoi essere protagonista, clicca qui sotto e prenotati per un'intervista che racconterà la tua storia e se verrai scelto, verrai pubblicato in un libro o in un'edizione della collana di questo progetto e potrai diventare famoso anche tu. Cosa aspetti? Clicca qui sotto e prenota un'intervista. Ciao!